Opportunità per quattro giovani di poter prestare il servizio civile nella Nissa Rugby. La società del presidente Giuseppe Lo Celso ha aggiunto un ulteriore tassello nel sostegno al territorio. L'itere di accreditamento è cominciato l'anno scorso grazie al supporto inestimabile dell'area responsabilità sociale di FIR. I quattro volontari saranno inseriti nell'ambito di tre progetti, due posti per sport su misura, un posto per rugby oltre le sbarre e un posto per ovale oltre. Il Servizio Civile Universale rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani del territorio nisseno, fanalino di coda in termini di occupazione giovanile. La scadenza della domanda è fissata per il 10 febbraio. Ne abbiamo parlato con Fabrizio Blandi, responsabile Servizio Civile Nissa Rugby. Sarà possibile partecipare online facendo la domanda al sito domandeonline.serviziocivile.it si dovrà fare l'accreditamento con lo speed, quindi con l'identità digitale. Dopodiché basterà o cercare Sicilia e i nostri codici di progetto o Caltanissetta come provincia e i nostri codici di progetto e sarà possibile iscriversi ai nostri progetti. I progetti sono tre per quattro posti di servizio civile, due posti per sport su misura in cui ci occuperemo principalmente di promozione dello sport a livello della nostra città e poi ovale oltre, rugby oltre le sbarre che saranno invece dedicati al mondo delle difficoltà delle difficoltà relazionali dei minorenni, oggi in particolare carcere e comunità di recupero. Questo è quello che vogliamo dare alla città e che speriamo anche dal punto di vista del ritorno di valore che ne avrà il territorio sarà importante e darà un seguito ancora di più in futuro. Grazie a tutti.